Una cavalcata che prosegue senza intoppi, quella della Reier Basket in Champions League. Anche in Repubblica Ceca gli aerogranata si impongono facilmente sugli avversari della Opava, finendo la partita a 18 lunghezze sopra. 4 gli uomini in doppia cifra per la Reier, Austin Day 16 punti, Stefano Tunut 15, Mark Haynes 20, Watt 14. Per Opava, miglior realizzatore, è Martin Nadek con 17 punti. Non è facile vincere in trasferta in Coppa, una gara però tutto sommato lineare. Il coach Walter De Raffaele. Credo che abbiamo giocato una partita molto solida dal punto di vista mentale, approcciando molto bene la gara e soprattutto limitando quelle che erano le caratteristiche di Opava, ovvero tante volte il tiro da tre punti. Abbiamo condotto sempre la partita e di questa durezza mentale dobbiamo far tesoro, migliorare, perché abbiamo avuto anche dei passaggi a vuoto, però ci sono molti segnali positivi. Vincere fuori casa in Champions non è mai facile, adesso dobbiamo resettare, recuperare e pensare subito alla prossima partita. Sicuramente c'è stata, ripeto, una prova a livello soprattutto di approccio, sia al primo quarto che all'inizio del terzo quarto, importante per poi dare la possibilità a me di variare i quintetti, di ruotare, di fare scelte diverse. Ripeto, fuori casa non è mai facile vincere, credo che stasera abbiamo vinto da autorità. Ripeto, fuori casa non è mai facile, credo che stasera abbiamo vinto da autorità.